Il Comitato per la Prevenzione e la Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei Minori, presieduto da Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha implementato un vasto piano di controlli nell'ambito del gioco pubblico. Le operazioni hanno coinvolto 23 province italiane, tra cui Catanzaro e Crotone. Agenzie delle Dogane, dei Monopoli, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza hanno effettuato controlli in punti di raccolta scommesse, sale VLT, esercizi commerciali con AVP e servizi per conto di concessionari per il gioco a distanza. In totale sono stati eseguiti 580 controlli, pianificati attraverso un lavoro preventivo e costante di monitoraggio su tutto il territorio nazionale. Il dispiegamento delle forze ha rivelato la presenza di 15 punti non autorizzati di raccolta scommesse, 88 apparecchi AVP irregolari sequestrati e 21 totem per la connessione a siti di gioco irregolari. Complessivamente sono state inflitte 173 sanzioni amministrative per un importo di 12 milioni 178 mila euro, mentre 42 soggetti sono stati deferiti alle autorità giudiziarie per reati come la raccolta illecita di scommesse sportive.